È stata depositata la perizia psichiatrica redatta dal dottor Gaetano Sisalli, consulente del GIP di Catania, nel processo con irrito abbreviato condizionato a Giorgetta Kolesnichenko. L'ex modella romena accusata dell'omicidio della colombiana Sandra Gansia Rios è avvenuto al culmine di una lite condominiale il 3 febbraio 2021 in una palazzina di Viale Mario Rapisardi. Per il difensore dell'imputata, l'avvocato Pietro Ivan Maravigna, l'esito dell'esame si inserisce nel solco di quella che è stata la tesi difensiva sin dal primo istante dopo i fatti. La signora Kolesnichenko aggiunge illegale, secondo il perito ha in via generale in condizioni di stress una capacità scemata di intendere volere, ma per quanto attiene al momento in cui si sono verificati i fatti tale capacità era grandemente scemata, soprattutto in ragione dell'aggressione subita all'interno della propria abitazione per come già accertato in sede di incidente probatorio. Ulteriormente, sostiene l'avvocato Maravigna, le conclusioni peritali che negano l'esistenza della pericolosità sociale della Kolesnichenko dovrebbero imporre nuove valutazioni circa la necessità della sua permanenza in custodia cautelare anche in considerazione del pericolo di commissione di atti autosoppressori sempre evidenziati dalla perizia depositata. Il processo è stato rinviato al prossimo 17 febbraio.